Viaggiavamo meglio 40 anni fa, quando la statale 106 poteva essere ancora sufficiente per i volumi di traffico del tempo. Sulla rete ferroviaria circolavano treni a lunga percorrenza e l'aeroporto di Crotone, grazie all'Itavia, ci collegava a tutto il resto del mondo. In 40 anni, l'aeroporto, afferma il direttivo del Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone, è caduto in disgrazia, seguendo il triste destino dell'Itavia, mentre la statale 106 e la rete ferroviaria Ionica non sono state mai ammodernate. Il territorio gradualmente è rimasto sempre più isolato, con i suoi cittadini sempre più emarginati e relegati nel ruolo di ultimi. In questa atmosfera, amara e molto cruda, prosegue il Comitato, abbiamo salutato il 17 gennaio l'ultimo volo Crotone-Bologna ed il 19 sarà la volta dell'addio anche al Crotone-Bergamo. Ora la situazione è davvero grave, visto che la SACAL continua a non gestire l'unica infrastruttura capace di poterci collegare al mondo. Intanto però presenta all'ENAC un masterplan per l'aeroporto di La Mezzia di 195.500 euro ed ottiene dalla regione circa 5 milioni di euro a fondo perduto. Per Crotone niente piano, 0 euro e non rinnova nulla. Ora la situazione è ancora più grave se il governo, dopo averci riconosciuto nel 2002 la continuità territoriale, non ha trovato alcuna soluzione per poter garantire il nostro diritto alla mobilità. Una situazione addirittura paradossale perché sulla fascia Ionica non verrà investito nemmeno un euro dal Recovery Fund, poiché nessuno si è preoccupato di fare la progettazione delle infrastrutture ormai datate. Il 19 gennaio, alle ore 14, saremo per l'ennesima volta in aeroporto, conclude il Comitato, per dimostrare che i cittadini vogliono continuare a vivere in questa terra ed essere collegati al resto del mondo. . Grazie.